Ciao ragazzi, oggi una breve video recensione per presentarvi questo controller LED Wi-Fi. Questa è la confezione, molto minimalista, infatti abbiamo solamente la piccola confezione in cartoncino, all'interno del quale non c'è nessuna indicazione. Abbiamo solamente il cartoncino con il QR code per scaricare l'app e un brevissimo manualetto, 4 passaggi scritti in inglese che vi guidano al setup iniziale. All'interno della confezione non sono compresi né LED, né alimentatori, né niente, bensì solamente questo controller LED, cioè questo disco bianco che adesso ho in mano, che è dotato appunto di connettori per l'alimentazione. Non sono compresi neanche i cavetti che ho già assemblato per una questione di comodità, infatti adesso in questa video recensione vi faccio vedere un po' come si utilizza. Come potete vedere è dotato di due porte per l'alimentazione, può essere alimentato da 12 a 20 minuti, 24V e ha sia il connettore standard con le vitini per mettere direttamente i cavetti, ma anche il connettore rotondo che si usa quasi su tutti i kit di LED RGB, quindi il connettore standard. In alto invece abbiamo due connessioni per il voltaggio più, i tre canali RGB e il canale del bianco per le strisce LED dotate di questo canale. Nel mio caso non avendole, avendo una semplice striscia RGB, non vale utilizzare né il canale bianco né il secondo canale più che non mi serve in questo caso. Allora, per quanto riguarda la configurazione è estremamente semplice. Il modulo funziona tramite app, quindi serve un telefono smartphone dotato di Wi-Fi e l'app è reperibile o direttamente dal QR code, ma basta che accedete all'Apple Store o al Play Store nel caso di telefono Android per poter scaricare l'app gratuita. L'icona è questa qui, Magic Home, il simbolino una piccola casetta. Per quanto riguarda questo kit, servirà per poterlo mettere in opera ovviamente un kit LED RGB. Nel mio caso avevo già questo kit, composto da una serie di strisce, adesso ne collegherò solamente una perché me ne serve una. L'alimentatore, che ripeto, non è compreso con questo acquisto, ma era compreso insieme LED. E nel mio kit c'era anche il controller che, per farvelo capire, sarebbe questo qui, dotato di telecomandino che non vado ad utilizzare nel mio caso, poiché sostituisco questo controller con questo controller. Allora, la connessione è estremamente semplice. Tutte le striscioline LED sono dotate di un connettore a 4 poli, nel caso in cui sia una striscia RGB. Questi poli, nel mio caso, hanno appunto la freccettina che indica il segno più. Il canale B, R e G che stanno per blu, red e green, quindi tre colori, blu, rosso e verde. Non so perché nel mio caso, ma in realtà se vado a collegare il canale verde con il verde, il canale blu con il blu e il canale rosso con il rosso, solamente il rosso corrisponde, mentre i canali blu e verde sono invertiti. Non so se questo dipende dalla mia strisciolina LED, oppure se è un errore qui sulla piedinatura. Tutto sommato, vabbè, non è un grosso problema, quindi basta invertirli. L'importante è sempre collegare bene il polo più, perché il polo V più sarebbe il voltaggio positivo. Collegato male può creare problemi alla strisciolina LED, quindi occhio a questa connessione. Nel caso in cui andaste ad invertire uno dei tre canali rosso, verde e blu, non è un problema in quanto al massimo la strisciolina LED produrrà, diciamo, dei colori alterati, ma non si va né a bruciare né a creare danni. Per quanto riguarda la connessione, io ho già collegato, diciamo, dei pin, in questo caso, removibili direttamente sulla strisciolina. Vado a collegarveli al volo, prima di alimentare ovviamente. Quindi nel mio caso vado ad invertire il blu e il green, non so per quale motivo, ma così, visto che già l'ho testato, so che così funziona. Eccoci qui. E non ho colori reali della strisciolina LED, altrimenti avrei il blu invertito con il rosso, con il verde. Ecco fatto, la connessione è molto semplice, basta quindi collegare la strisciolina LED al controller. Ecco fatto, così la dovremmo vedere durante questa video recensione. Vado poi a collegare l'alimentatore a questa presa, nel mio caso corrisponde, quindi non devo tagliare il connettore, ma vado direttamente a collegarlo, ecco qui, e vado poi a collegare la spina direttamente alla corrente. Appena connesso, forse adesso non si vede perché il video è particolarmente chiaro. Eccole qua. Si vanno ad accendere la lucetta rossa centrale che indica l'alimentazione correttamente collegata e nel mio caso già il LED blu, in quanto la strisciolina è già connessa al mio router tramite Wi-Fi. Nel vostro caso, nella prima installazione dovrete procedere all'installazione prima di avere quel LED acceso. Una volta configurata l'app, eccola qui, basterà collegare, aprire l'app e in automatico il telefono riconoscerà, stando sulla stessa rete Wi-Fi, questo controller. Eccolo qui, infatti si chiama, vabbè, ha un seriale suo, basta cliccare sopra per accedervi. Adesso praticamente tramite telefono posso andare a gestire questa strisciolina LED, quindi ad esempio se io mi vado a mettere sul rosso, vedrete che la strisciolina si è accesa di colore rosso. Se io mi mettessi sul giallo, vedrete che diventerà gialla, eccola qui, è un giallo verdogno o più che altro. Se vado sul verde, apro il verde intenso, sul blu, il blu intenso e così via. Posso regolare sia la luminosità, vedete che va a diminuire o ad aumentare, e nel caso in cui avessi collegato anche il canale bianco potrei gestire anche il canale bianco. Non è il mio caso, quindi è inutile che vado a toccare questa striscia. Come potete vedere io muovendomi con il cursore vado a far variare il colore della striscia LED. La cosa carina è che oltre ad avere questo controller statico e avere quindi le luci statiche, ho una serie di funzioni per gestire i colori. Questo secondo menu serve solamente per gestire il bianco, non è il mio caso, e qui ho una serie di funzioni. Ho ad esempio l'impostazione per far cambiare sette colori in alternanza crossfade, quindi diciamo a scalare, quindi passerà da un colore all'altro in modo graduale. Vedete adesso dal giallo è passato al verde, e dal verde passerà al celeste, eccolo qui. Posso regolare la velocità, ecco qua, molto aumentata, quindi andrà molto più veloce, rosso, giallo, verde, celeste, tra poco e così via. Quindi posso regolare sia l'effetto tra questi presenti, sia la velocità. Adesso per esempio metto rosso graduale, vuol dire che il LED si accenderà e spegnerà solamente il rosso. Sfogliando ancora vado sul verde graduale, stessa cosa di prima ma in verde. Ci sono poi le alternanze, adesso passerà da rosso a verde in alternanza, e come al solito posso scegliere la velocità. Questi diciamo sono alcuni degli effetti. Ho poi una caratteristica carina che è quella di poter mandare la striscia diciamo al ritmo di musica. Vado a selezionare la musica, l'unica cosa sbagliata tra virgolette dell'app è che non fa selezionare le cartelle ma mette tutti gli MP3 insieme. Quindi adesso ne metterò uno a caso di dimostrazione. Ecco qua, per esempio Alfonso di Levante, confermo. E mandando in play la musica, vedete che led andrà nel tempo di musica. Vado ad abbassare il volume altrimenti non mi sentite. Il cambio colore in questo caso è gestito in automatico dalla strisciolina, quindi anche il ritmo musicale è gestito direttamente dall'app e voi potete andare a selezionare le modalità della musica, quindi rock, musica normale, jazz oppure classico. Altra tipologia è questa custom che permette di selezionare una serie di colori. Ad esempio adesso è già impostato rosso, verde, blu e bianco e quindi vedrete che la strisciolina eseguirà in automatico il passaggio da rosso a verde, da verde a blu e da blu a bianco. Eccolo, adesso sta diventando blu. In maniera automatica è graduale. È possibile cambiare il colore o aggiungerne altri, per esempio posso mettere il giallo, vedete questo è il colore che vado a confermare e lo aggiungo. E posso selezionare sia il tipo di sfumatura, in questo caso graduale, diciamo per salto, oppure strobo, quindi ad ogni alternanza cambierà colore. E posso come al solito regolare la velocità. Poi posso salvarla, personalizzarla e così via, aggiungerne altre e così via. Quindi una volta che ho impostato il colore lo invio al controller, posso farne una sequenza, dopodiché non serve rimanere connessi col cellulare, la striscia continuerà ad eseguire, diciamo, la serie che ho impostato io. Altra funzione è quella disco, che praticamente va a far accendere e spegnere la luce in base alla sensibilità del microfono. Quindi, come potete vedere, adesso ho abbastato un po' il volume, va a far accendere e spegnere il led in base alla mia voce. Se io parlo si accende, se non parlo rimane spento. La funzione è molto carina, è questa tramite camera, che non fa altro che prendere praticamente i colori dalla fotocamera e farli riprodurre led. Ad esempio prendo questo rotolo di porta scotch blu, lo miro, vado a confermare il colore e vedete si accendono di blu i led. Poi prendo, non lo so, adesso ho tutti oggetti blu. Ecco, ecco, ho trovato un post-it viola, viola rosa shocking più che altro. Lo indico, vedete il colore mi viene indicato qui, lo confermo, eccolo qui, e il colore viene acquisito da led che diventano di quel colore. È una funzione carina, più che utile, diciamo, è simpatia. In automatico addirittura è varianza continua, quindi in base a quello che passa davanti la fotocamera viene a cambiare il colore. È una funzione piuttosto simpatica, non so quanto sia realmente utile, ma comunque mi piace che ci sia. Vedete, insomma, è un oggettino simpatico. Il costo del controller non è particolarmente elevato, ovviamente, diciamo, ripeto, il controller è solamente una parte, ma dovete comunque acquistare anche il resto del kit led per poterlo gestire. Spero di aver detto tutto e di avervi chiarito un po' i dubbi. Ripeto, la connessione è facile, basta avere un minimo di conoscenza ed essere in grado di collegare, diciamo, la morsettiera da questo controller fino alla strisciolina led. Tutto qui quello che serve saper fare. Spero di aver chiarito bene la funzione e nel caso in cui abbiate dubbio o curiosità basta che mi scrivete sotto la video recensione. Grazie, un saluto, alla prossima da Mariano.